Oggi 10 luglio è la festa del Santo Patrono a Fano, San Paterniano, probabilmente il primo vescovo di Fano, santo protettore anche di Grotta a Mare e uscendo dalle Marche e andando in Romagna anche della città del Sale, Cervia. Oggi per la città della fortuna invece è un giorno di celebrazioni religiose e di festa assieme che culmina con l'ormai imperdibile Tombola in piazza, un appuntamento popolare a cui i fanesi e i turisti non vogliono mancare. Tombola in piazza, il cui ricavato è bene ricordarlo, sarà devoluto in beneficenza per sostenere la mensa dei poveri, opera padre Pio di San Paterniano appunto. Ma la giornata celebrativa è iniziata molto presto, questa mattina con inizio delle funzioni religiose nella Basilica del Santo, sin dalle 7 di questa mattina per poi arrivare alle 11 alla presenza delle massime cariche cittadine, civili e militari, presedute dal vescovo Armando Trasarti che ha sottolineato come il concetto dell'accoglienza e del dialogo sia il segno distintivo del Santo, richiamandoci con forza quindi al nostro compito di cristiani in questi tempi di grandi flussi umani. Oggi un santo evangelizzatore ci dice ieri come oggi che la fede bisogna non solo professarla ma anche narrarla con le parole e con la vita, narrarla e la narrazione e la trasmissione orale e visibile della fede, questo credo sia il grande compito oggi, soprattutto al mondo giovanile ma anche al mondo della sofferenza, perché no anche al mondo civile, questa gran confusione che a volte sembra starci eppure dentro questo tempo che non è il peggiore di tutti i tempi credo che ci siano a venire, è una speranza. Una giornata di festa per la maggior parte dei fanesi che sia sì di svago ma anche che serva per riflettere sui vari aspetti della nostra società in grande evoluzione e trasformazione all'insegna del santo protettore della città. San Paterniano è stata una grande figura e anche dall'omelia del suo eccellenza il Vescovo le parole sono quelle della speranza, sono parole di partecipazione e di non girarsi dall'altra parte ma di aiutare, di essere attivi nella società e avere rispetto degli altri e quindi queste giornate oltre ad essere un momento di festa sono anche un momento di riflessione, sono un momento di condivisione, sono un momento per vivere anche la comunità a cui si appartiene. Come di consuetudine quindi l'appuntamento in piazza 20 settembre per i possessori del biglietto ma anche per acquistarlo scaramanticamente all'ultimo venuto alle 21 di questa sera. per poi aspettare che dal bussolotto tomboliere le mani innocenti di un infante volontario regali la benevola sorte al prescelto di turno alle 22.30 circa. numero 36 36 36 36 36